Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e come potete vedere alle mie spalle oggi è tutto spento è tutto spento perché mi avete fatto delle proposte un po' strane nel live di ieri e io sono abbastanza pazzo da andare a tentarle quindi oggi andremo a tentare di fare uno slide tra queste due schede video nonostante la differenza di altezza che come potete vedere è parecchio eclatante come vi ho detto nel live di ieri la difficoltà nell'effettuare lo slide tra queste due schede video è il problema dell'altezza ci sono 4 cm di differenza, no magari non 4 ma 3 cm di differenza tra una scheda video e l'altra quindi il problema è far connettere lo slide bridge su entrambe le schede video il problema è che genericamente gli slide bridge come questo sono rigidi quindi non è che possiamo andare a posizionarlo così no non ci arriva fisicamente e inoltre questo è un tipo di slide bridge ai bandwidth chiamato quindi ad alta banda per ovviare a questo problema però mi avete fatto un paio di proposte a cui io non avevo pensato effettivamente grazie a tutti coloro che hanno commentato mi avete proposto due alternative la prima molto più semplice da realizzare ovvero di andare a utilizzare gli slide bridge quelli flessibili ovviamente non sono ad alta banda però probabilmente utilizzandone comunque due magari riusciremo a abilitare lo slide e vedere un attimo che cosa succede questo non lo so andremo a fare la prova tra poco la seconda proposta che mi avete fatto è stata quella di utilizzare una prolunga per lo slot PCI Express mi sono ricordato di averne una e effettivamente questa potrebbe essere una soluzione infatti per chi mi segue su Instagram ho fatto dei test ieri che però non sono andati a buon fine quindi oggi andremo a effettuare il video completo quindi io direi non perdere tanto altro tempo prendiamo subito queste schede video spostiamoci sulla test bench e vediamo che cosa succede il primo test che andremo a effettuare è mettere entrambe le schede video e utilizzare gli slide bridge quelli flessibili andrò a utilizzarne due come vi ho già detto per vedere un attimo se riusciamo ad attivare lo slide magari le performance potranno non essere delle migliori ma sicuramente è la soluzione più facile e indolore quindi andiamo a posizionare entrambe le schede video sugli slot PCI Express ok perfetto andiamo a collegare tutti i cavi di alimentazione perché ci servono 4 cavi di alimentazione di cui 3 a 8 pin visto che la scheda video dell'MSI ha bisogno di 8 e 8 pin mentre per quella reference Nvidia o founders chiamatela come preferite servono 3 pin cioè 6 pin e 8 pin quindi andiamo a collegare entrambe le alimentazioni e andiamo a collegare entrambi gli slide bridge flessibili perché ci permettono di effettuare una curva ok collegato il primo collegato il secondo 3 2 1 e vediamo cosa succede intanto si è accesa questo è un buon segno magari non le vedrà non farà niente ok siamo arrivati su Windows abbiamo le impostazioni vediamo un attimo cosa è successo vediamo un secondo sta caricando molto più lento del solito ok controlliamo a quanto pare è già abilitato lo slide 2 1080 ti ok perfetto configura slide si è attivato automaticamente quindi siamo a buon punto quindi a questo punto direi di tentare di far partire 3D Mark quindi lanciamolo 64 bit ok vediamo un secondo che cosa succede download che cosa stai scaricando? ok ci sono aggiornamenti di King of the Hill ma non ci interessa in questo momento la risoluzione dello schermo in questo momento è 4k 3840 per 2160 andiamo su benchmark e vediamo un attimo Fire Strike Ultra direi di tentare anzi proviamo l'extreme tanto per vediamo cosa succede allora disattiviamo la demo facciamo run e vediamo un attimo cosa succede con questo benchmark ok abbiamo quasi il risultato 19177 questo è l'extreme direi di comparare il nostro risultato online così vediamo un attimo perché l'extreme non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto 19177 wow ho 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 allora direi sì che per l'ultra no per l'extreme con uno slide di 1080 Ti e un 6700K avrei potuto ottenere risultati migliori ancora con il 7700K ma magari effettueremo di nuovo questo test in un altro video ragazzi abbiamo il doppio rispetto a un PC che teoricamente supporta il 4K devo dire che il risultato è fantastico direi di far partire un altro benchmark che potrebbe essere engine even ok si vede piccolissimo la risoluzione l'ho dovuta mettere custom con 3840x2160 tutte le impostazioni come me l'avete chiesto anche voi sono a ultra extreme e aspettate che aggiungo anche la tessellation a 8 no è già tutto attivato durante il tempo del test ho deciso che non andrò a effettuare il test con la prolunga PCI Express perché avevo dei risultati pessimi e già adesso posso dirvi che sta andando a bomba sono 59 fps in questo momento è molto piccola la scritta faccio fatica a leggerlo ma sta andando benissimo quindi direi di far partire il benchmark e vedere un attimo che cosa aspettarci ok il test è finito mi dispiace non riuscire a farvi vedere per bene questi risultati in ogni caso come potete vedere abbiamo lo slide 1080ti funzionante al 100% lasciate perdere il fatto che vengano visti 4 giga ma è un fatto di engine even come potete vedere in 4k tutto a ultra è una figata abbiamo avuto un risultato di 1893 però in ogni caso abbiamo 9 di minimo di fps perché c'è stato tipo un drop in un momento non so per quale motivo e poi abbiamo 173 fps in 4k a ultra su engine even che è qualcosa di mostruoso con tutto a ultra abbiamo finito tutti i vari test non voglio effettuarne altri perché in questo momento non ha senso cercherò magari di portarvi i benchmark nei vari giochi quando vi porterò la recensione effettiva della 1080ti della MSI e però per adesso vi lascio con questi risultati non ho idea a chi possa servire una potenza di calcolo del genere qui come potete vedere dietro di me sta ancora andando il test in 4k e devo dire che è esagerato è esagerato soprattutto anche perché io sto utilizzando due slide bridge flessibili utilizzando uno slide bridge ad alta banda probabilmente come vi ho già detto si otterranno dei risultati migliori però come vi ho già detto avevo effettuato un test questa notte con la prolunga PCI Express che era andato assolutamente non a buon fine quindi non vale la pena sono riuscito ad ottenere dei risultati fantastici in questo modo probabilmente questa prolunga fa perdere della banda non ne ho idea o non è adatto per una scheda video così potente o c'è stata qualche altra sorta di problema in ogni caso spero che questo video test eccetera vi sia piaciuto vi invito a lasciare un like, un commento su cosa ne pensate non ha assolutamente senso questa cosa e direi che da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao